Come l'anno scorso, meglio dell'anno scorso. Il Bari è molto attivo sul mercato, il DS Giorgio Perinetti nel finale di campionato si era già mosso prima del ritorno all'ovile di Conte, ma l'accelerazione è arrivata dopo che l'ex capitano della Juve ha spazzato ogni dubbio sulla sua permanenza a Bari. Il tecnico leccese ha ottenuto un suo vecchio pallino, il centrocampista Filippo Carobbio, e si è assicurato le prestazioni dell'esterno onduregno Edgar Alvarez. Sul fronte Barreto le sensazioni sono buone, il brasiliano dopo un po' di tiramolla e qualche dribbling alle lusinghe bolognesi dovrebbe anche lui fermarsi a Bari. Sempre dall'Udinese dovrebbe arrivare in prestito il centrocampista nigeriano Christian Obodo. Queste ultime due operazioni sono da considerarsi ormai perfezionate. Spostiamoci ora nel campo delle possibilità. Il Bari sta valutando il trasferimento in bianco-rosso dell'attaccante Riccardo Meggiorini. Nessun problema con il Cittadella disposto a cederne il suo 50%, ma va considerato che l'altra metà è a cavallo tra Inter e Genoa. E bisogna capire prima a quale società una di queste due squadre intende cedere la seconda metà. Per i netti sta accarezzando anche l'idea Franco Brienza. L'attaccante della regina potrebbe tornare molto utile, ma oltre al Bari ci sono altri pretendenti. Non se ne è fatto più niente invece per il ritorno in bianco-rosso del portiere 42enne Alberto Fontana. Il vecchio Jimmy, la curva lo chiamava così, aveva altre esigenze.